Salve ragazze, come promesso vi faccio vedere l'album numero 3. Allora, ci sono molte offerte, soprattutto la novità Uomo che poi vi farò vedere. Allora, anche per prodotti per la festa del papà. Allora, qua ci sono tutti i prodotti che riguardano le mani, la crema irradante, SOS mani pulite, il concentrato antifreddo arricchito col carité. E se voi fate caso, qui nell'album c'è l'offerta, in poche parole, a soli 5,50€, danno una crema sublimatrice, 2 in mani e poi uno smalto gloss ultra brillantezza. 5,50€ invece di 10,45€. Poi, ci sta tutto ciò che riguarda i piedi, balsamo riparatore, crema d'odorante, pastiglie effervescenti alla lavanda. E in offerta danno questo set, pastiglie effervescenti alla lavanda per i piedi, più gommaci i piedi, più crema nutriente i piedi. A 9,95€ invece 17,40€. Poi, io vi faccio vedere solo i set, le offerte. Qua è tutto un set corpo rinnovato. Latte nutriente, latte idratante, idratante anticrescita, gommage, rassodante e rassodante intensivo. Il set corpo invece danno gommage vegetale, più latte nutriente per pelli secche a 9,95€ invece di 16,90€. Poi, questo è per il set corpo intensamente nutrito. Allora, ci sta l'ifitin seno, SOS gambe pesanti, latte nutriente per pelli secche, concentrato nutriente per intenso corpo. Il set che danno è, con l'offerta, gommage vegetale, più latte nutriente intenso per pelli molto secche. A 9,95€ invece di 17,90€. Poi, questi qui sono i complementi alimentari. Poi, questo qui sono gli oli. Shampoo, ci sta l'olio, riparatore, shampoo trattamento nutri-riparatore, la maschera. Questo è tutto per i capelli. Poi, ci sta shampoo, shampoo all'avena, balsamo nutriente, tutti i prodotti per i capelli. Poi, ci sta shampoo volumizzante a 3,95€, purificante a 3,95€, tutti gli shampoo a 3,95€. Poi, qua sempre shampoo, 3,95€ al tiglio, alla mamelis. E poi, questo qui è sempre l'anticaduta, 5,95€. Un prodotto molto buono è l'aceto di risciacquo, che è riconosciuto per le sue proprietà liscianti e di eliminazione del calcare. Ha un profumo di lampone. Poi, c'è un'altra offerta per quanto riguarda il set corpo abbronciato, che danno dopo sole 3 in 1, più latte abbronciatura intensa, a 11,95€ invece di 20,45€. Poi, queste sono le creme, fondamentali occhi, fondamentali notte, giorno. Queste qua sono sempre creme dopo i 40 anni. Queste sono anche ripompanti mirato rughe d'espressione occhi. Poi c'è il giorno e notte. Poi, queste sono dopo i 50 anni, altre creme giorno e notte. E poi, ci sta un siero modellante. Un siero modellante che è ricco di acido malico, aiuta a ricreare le micro-giunture che impediscono il rilassamento. Cioè, in poche parole, ha un doppio effetto lifting. Ha estratto di semi e favorisce la naturale sintesi in tre sostanze chiave. Costa 17,95€ invece di 24,95€. Questo è un balsamo ristrutturante giorno e notte. Queste sono sempre creme della Ric Cremé, a partire dai 50 anni in su. Poi, vediamo le altre offerte. Questa è sempre la linea di radiazione per la pelle, la Hydra Vegetal. Questa pure buona per i clienti. E qua c'è un'offerta che se prendi tonico, idratante e luminosità, più latte detergente idratante, a 7,95€ invece di 13,90€. Poi, quest'altra offerta, detergi il tuo viso, pelli sensibili. 9,95€ invece di 15,90€, un latte detergente dermolenitivo, più lozione dermolenitiva. Poi, ci sono le creme Active Sensive, e poi questa è sempre la Sebo Specific. Infatti, come offerta danno, gel detergente gommace delicato, più lozione 2,1€, a 9,95€ invece di 15€. Poi, qua ci sono le maschere, maschera opacizzante vegetale, più peeling purezza vegetale, a 12,95€ invece di 19,90€. Qui ci sono altre due maschere, invece soltanto una costa 7,95€ invece di 9,95€. Poi, hanno fatto pure un'offerta per i prodotti per la pelle con imperfezioni, un gel detergente purificante, più lozione purificante, a 9,95€ invece di 15,90€. Poi, ci sono le maschere fruttate, due maschere a 7,95€ invece di 13,90€. Invece, invece, una 4,95€ invece di 6,50€. Poi, ci sono, va bene, tutti i prodotti della Camille, che il gel detergente è buonissimo, sono buonissimi questi prodotti qui. Poi, ci sta quest'altra offerta, in poche parole, tutti i balsamolabbra. Se ne acquisti uno a 1,95€, il secondo lo hai a 1€ a 1€. Poi, ci sono gli ombretti, andiamo più veloce, e poi qua ci sono le matite, e poi sono state messe queste altre creme, innovazione, cioè in poche parole, è stato messo azione gambe affinate, azione addominali cludi e azione anticellulite. Allora, il gel effetto guai in addominali glutei è un flacone di 150 ml, 22,95€ invece di 29,95€. Il gel riducente, levega cuscinetti, azione anticellulite, 22,95€ invece di 29,95€. E l'ozione rassodante azione coscia affinate, 22,95€ invece di 29,95€. E infatti dice che l'80% delle donne ha ottenuto gambe più sode. E questo pure sono altre offerte. Poi, infatti, girando, vabbè, c'è un complemento alimentare, e infatti invece il set per un'azione mirata è stato diviso in questo modo. Gel effetto guaina, più lozione rassodante a 37,95€ invece di 59,90€. Set, combatti la cellulite dall'interno e dall'esterno, gel riducente, levega cuscinetti, più riducente, triplazione a 37,95€ invece di 59,90€. Poi ci sono tutti i complementi alimentari, complementi alimentari, non ci interessano, andiamo veloce. Allora, poi c'è un ombretto, ci sono gli ombretti in crema, a 9,95€ invece di 12,95€. Le matite, queste matite qua che sono molto buone a 7,95€. I mascara, i fondotinta, tutti i fondotinta, e poi è uscito quest'altro gloss volume sexy pulp, che è bellissimo questo. Infatti ora è uscito a 11,50€ invece di 14,95€. Poi i rossetti, questi sono polvere perlata per gli occhi, gli smalti, questo è tutto l'acqua struccante viso e occhi, lo struccante delle occhi sensibili, lo struccante erabico occhi bifasico, scusate. Poi i gloss, questi sono tutti i gloss che sono buonissimi, mi sto trovando bene. E poi questi rossetti qui a 4,95€. I gloss pure stanno 4,95€. Poi ci sono il mascara, ci sono questi ombretti a 5,95€. Poi ci sta i set golosi piacevoli, a 6€, il set due di questi qui, cioè il bagno doccia più la toilette, di 20ml, il profumino, a 6,95€. Poi andiamo veloce, poi ci stanno quelli all'avena, al cocco, all'olio d'oliva. Poi ci sono questi altri set. Questa è tutta la scelta bio. E poi ci sono i gel doccia a 2,95€ invece di 3,50€. e poi hanno messo l'offerta di questi qui, di questi altri qui, invece di 2,50€, 1,95€. Poi ci sono i doloranti a 2,95€, il sapone liquido per mani, questa è la mamelis. E ora, questi sono i profumi, e poi ora ci sono le novità, uomo. Eccole qua le novità, uomo. Gel d'orciacapelli. Poi, balsamo dopo barba, gel detergente, gel dal barba, tutte le novità, uomo. Infatti qua hanno fatto i set, cioè per la festa del papà. Allora, un gel detergente viso, gel da barba, balsamo dopo barba, 16,95€, invece di 25,50€. Quest'altro qui, schiuma da barba, balsamo dopo barba, trattamento detergente 3 in 1, a 18,95€ invece di 28,95€. Poi, se acquisti con un euro in più, si ha il profumo, il profumo, il deodorante a 18,95€, a 18,95€. E poi, scegliere se prendere con il deodorante o con lo shampoo doccia. Quest'altro qui sempre, con un euro in più, scegli o col deodorante o col profumo, il deodorante e profumo, oppure profumo e gel, corpo e capelli, a 27€. Questo invece, sempre a 27€, profumo e deodorante o profumo e gel doccia. Questo è la stessa cosa, solo che costa 18,95€, o col deodorante o col gel doccia e capelli. Questo invece, 30,95€, o col deodorante o col gel doccia, corpo e capelli. Vi saluto, un bacio, al prossimo video, ciao!